Il marketing non è solo pubblicità ma è molto di più. Tendenzialmente si tratta di riuscire a far capire, a trasferire le motivazioni per cui un prodotto o servizio è perfettamente adatto per un cliente e per questo dovrebbe sceglierci rispetto alla concorrenza. E per farlo in maniera efficace dobbiamo ovviamente conoscere le motivazioni che spingono una persona per cui li rende dei candidati perfetti per il nostro prodotto o il nostro servizio. Per cui è semplicemente un lavoro di comunicazione per far sapere alla persona che il nostro prodotto esiste, che fa esattamente al caso suo e soprattutto perché. Ed è il vero perché che fa la differenza. Oggi siamo totalmente circondati da concorrenza e riuscire a dare questa motivazione, a far capire il perché scegliere noi invece dei concorrenti è la parte più difficile del gioco. Oggi rifletti su questo e chiediti tu che tipo di marketing stai facendo? Stai spiegando alla persona perché dovrebbe sceglierti? Stai spiegando quali sono i benefici che otterrà grazie al tuo prodotto o al tuo servizio e per questo dovrebbe darti i suoi soldi? Se non riesci a trasmettere questo sarà veramente difficile trovare dei nuovi clienti e siccome i nuovi clienti sono la benzina di ogni azienda sappi che senza di questo la tua azienda non può andare avanti. Con questo è tutto, io sono Massimo Martinini e ci sentiamo domani. Ciao! Aggiungo, ovviamente il marketing è molto complesso e questa definizione è molto riduttiva perché si possono creare una serie di sfaccettature tendenzialmente infinite per andare a fare quello che ho detto prima però, ovvero comunicare in maniera chiara al cliente quello di cui lui ha bisogno, ovvero spiegazioni e motivazioni che lo toccano sia sulla parte razionale che sulla parte irrazionale e lo convinca a fare un passo verso di noi. Con questo è tutto davvero e ti saluto. Ciao! Ciao!